Ciao amici appassionati di fotografia e natura, oggi vi porto con me in un viaggio eccezionale, un'escursione fotografica tra le spettacolari dolomiti, un regno di pace e bellezza sotto un candido manto di neve. Insieme attraverseremo paesaggi da sogno, dove ogni vista è un capolavoro naturale, perfetto per essere immortalato. Con la mia macchina fotografica in mano siamo pronti a catturare la magia di questi luoghi, dove la luce e il silenzio parlano più di mille parole. Benvenuto o benvenuta in questa nuova puntata. Oggi mi trovo su un posto dove siamo già venuti un'altra volta, però faccio un giro differente, ma te ne parlerò lungo il percorso. L'obiettivo di oggi è raggiungere prima il rifugio città di fiume, che abbiamo già visto con Flavio in un altro giro, e dopo andare dal suo fino alla forcella ambrizzola, se ci riesco penso proprio di sì, e quindi prepariamoci per un bel giro, vediamo cosa ci offre questo paesaggio. Qui ho il Monte Pelmo che mi sovrasta, come sempre, c'è un po' di neve, non eccessiva, ci saranno circa 20 cm di neve. Però adesso saliamo. il percorso dovrebbe essere totalmente inagibile per i mezzi, intendo fatti delle nevi eccetera, perché c'è una frana proprio all'inizio del percorso, quindi ci sono i cartelli percorso chiuso causa la frana. Guarda che bello questo stacco, cielo, parte scura, parte chiara. Guarda che roba, che paesaggio, wow, splendido. E più vado su, più avrò un panoramico migliore di questo posto. Anche qui è bello, peccato per il berello lì, in mezzo. Più si sale e più il panorama diventa pazzesco, veramente. Ma che bello, che bei contrasti, che bella luce. C'è un vento in quota assurdo, le nuvole sono velocissime, mi sa che le vedi anche direttamente dal video. Ed eccomi qui, prima tappa. Sono sicuro che qualcuno di voi si ricorda questo posto perché abbiamo fatto, non ricordo se l'anno scorso, all'inizio di quest'anno, io e Flavio e appunto eravamo andati, venuti su da questo percorso qui, eravamo arrivati qui e poi abbiamo continuato su per il sentiero. Sentiero che andrò a fare anch'io adesso, tornerò perché arriverò a rifugio città di fiume, però questo percorso che ho fatto io è estremamente più semplice rispetto alla salita che abbiamo fatto io e Flavio da questa parte. Quindi bene, questa è una cosa che si sa in più, chi vuole sfaticare meno fa la salita che ho fatto io, troverà il percorso qui sulle notte dell'episodio. A chi interessa? Quella lì è la marmolata! Wow! Che bello! È già da un bel po' che cammino e non ho trovato ancora nessuno sul percorso e non sono venuto su chissà che orari, come è cominciato alle 8 circa, quindi è lunedì, non c'è nessuno. Questo è tutto per me, grandioso! Ed ecco il rifugio città di fiume, quello che avevamo già visto io e Flavio un anno fa circa in ristrutturazione, però io devo continuare la salita e andare su in alto. Niente tappa, rifugio! Speriamo che la neve non aumenti, perché sennò non riesco ad andare avanti. Per ora ce la faccio. Se questo sentierino è un po' battuto, mi dà una mano. Ma se diventa più morbida, diventa difficile, dovevo portarmi dietro le ciaspole, ma non avevo voglia di portarmi dietro troppo peso, per far magari un 100 metri. Vi vediamo dai! Tanto qua il paesaggio che mi si presenta davanti è sempre più bello. Non vedo l'ora di uscire da questi alberi per vedere bene il tutto. Qui è uno scorcio che si potrebbe anche fotografare. Tra l'altro si vede anche il percorso che andrò a fare. Non sembra troppo pieno di neve, quindi dovrebbe essere interessante. Qui ci sarebbe bene veramente un 50 mm come focale. Infatti che dalla Leica Q vado a mettere già un crop di 50 mm per avere un'idea di come potrebbe venire fuori. In modo da prendere un po' lo slancio anche della montagna con gli alberi. Adesso lo so, qualcuno dirà sì ma non è un 50 mm reale quello della Leica Q perché è un 28 e tu vai utilizzare il crop. Vero, è assolutamente vero. Serve solo per farmi un'idea di che angolo andrei ad inquadrare avendo un 50 mm. Ogni volta che vado avanti di qualche metro vedo degli scorci bellissimi mondo e vado. Lì c'è il lago delle vaste che però è totalmente innevato e quella lì è quella furcella famosa che si vedeva nel video che avevo fatto il passo Giao. Perché il passo Giao è proprio dall'altra parte. Obiettivo è arrivare alla maga che si trova lì in mezzo, fare una pausa e poi concludere con la forcella, se ci riesco. Ma guarda che roba, che roba, che paesaggio. Wow, è veramente bello. Ora prima faccio una foto da qua perché è stupenda sta inquadratura. Ok, col 28 dovrei starci dentro e infatti tranquillamente con il 28 mm anche con un 35 mm si sta senza problemi. Molto bello le montagne, due massi davanti, la collina qui, non so se è una forcella che va a creare uno stacco. Molto bello. Spettacolo! Faccio un salto qua, sono curioso di vedere cosa c'è, che panorama c'è oltre qui. La neve è molto fonda, infatti non si va più avanti. Ma che spettacolo! Quanto odio le discese perché significa che dopo quando devo tornare indietro dovevo farmela in salita. Uhuh, che paesaggi però! Qui è spettacolo! Mi trovo sulla forcella Roana, 1999 metri. Per un metro non facevo i 2000 ma adesso basterà andare su un pochino e li supero abbondantemente. Sono curioso di sapere se questo qui è un bivacco. Perché ho messo qui, considerando che non ci sono altri bivacchi in giro. No, è chiuso. Vabbè, torniamo indietro. Mi aspetta l'ultimo strappo, l'ultima salita. Arrivo lì alla Malga e mi fermo. È chiuso ovviamente, ma mi fermo lì un attimo a fare un po' di ristoro. E poi strappo finale fino alla forcella se ci riesco. Neve per giocare qua. Guarda che bella che è. Ho messo su gli occhialini perché c'è tanto tanto riverbero con la neve. Dopo un po' ti bruciano gli occhi se non si sta attenti a sta cosa. Quindi occhiali da sole di quelli buoni e continuiamo il nostro bel percorso. La fabbrica di nuvole. Monte Civetta è una fabbrica di nuvole. Alla cima il vento forte copisce la cima e poi motivi tecnici che non conosco si creano le nuvole. Però continuiamo verso la Malga che è lì. Ormai ci sono. La cosa molto interessante di questo giro è che è il primo letteralmente che ho fatto, almeno in andata, dopo vedremo ritorno, totalmente da solo. Non ho trovato una persona. Me lo sto godendo proprio tanto. Il paesaggio comunque è splendido. Adesso devo vedere se riesco a fare l'ultima parte del tragitto, ovvero raggiungere la forcella Ambrizola. Anche se la vedo tanto dura perché il terreno è preso male, nel senso ci sono 20 centimetri di neve circa. Però è quanto basta per non rendere le cose facili. Adesso vedrò se ci riesco perché ci ho messo veramente tanto tempo a fare gli ultimi 100 metri di salita, una roba assurda. E vorrei fare anche qualche foto, quindi non solo raggiungere la forcella e basta. Ho dato un occhio insomma al giro che dovrei fare. Dovrei andare su per questo sentiero qui, correre, andare su per di là. Ma ho provato a fare il primo tratto qui e sprofondavo mezza gamba. È leggermente battuto ma ci vogliono le ciaspole. Guardate le nuvole come corrono. Sembra quasi un timelapse ma in realtà è la velocità naturale delle nuvole. Quindi mi fermerò qui. Non andrò fin in alto anche perché non ha senso. Io faccio le uscite fotografiche per far foto. Quindi mi prenderò la calma col ritorno, con la bella luce che mi troverò. Cercherò magari di catturare una qualche foto con più calma e anche magari cercando di spiegare cosa mi ha colpito in una determinata scena. Come ho affrontato, approcciato una scena per tirarci fuori una foto. Penso che sia una cosa più utile che raggiungere l'obiettivo giusto per mettere una crocetta sui traguardi raggiunti. Non so come la pensi tu, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Lì in fondo abbiamo l'antelao, altre cime belle alte. Il nostro pelmo che sovrasta tutto con a fianco il civetta, fabbricatore di nuvole oggi. Questo è il percorso che dovrò fare al ritorno. È valentemente in discesa tranne quel tratto lì che mi farà sfaticare un po' per tornare su ma dopo è tutta discesa fino alla fine. Io sono stato un po' pirla perché mi è caduto il giubbino sulla neve dalla parte interna e si è bagnato tutto dentro. Adesso sto aspettando che il sole me lo asciughi un pochino. Impronte di animaletti ce ne sono un sacco. Allora, l'antelao mi piace tantissimo com'è preso in questa posizione. Quindi vado a farci una bella foto. Qui adesso è letteralmente impossibile far foto. Non vi incontro luce pazzesche. Devo aspettare di scendere un po'. Vado ad avere il sole che entra da quella parte lì. E vado a catturare delle scene più interessanti. Questo contesto è veramente molto semplice. Ma ad esempio mi piace con la luce che arriva dalla sinistra dentro nel fotogramma. Mi crea quell'ombra da quella parte lì. Qui c'è uno stacco in primo piano un po' con la neve. E non so se riuscirò a farlo vedere con la fotografia o con l'action cam. La zona più scura della montagna, della cima. Ecco che provo a fare qui uno scatto. Bello il cielo che non è piatto ma è rotto dalle nuvole. Magari aspetto che vengano avanti un pochino perché lì c'è la scena di un aereo. Non mi piace all'interno della scena. Il percorso di ritorno è sempre una cosa che mi affascina tantissimo. Perché mi fa vedere un paesaggio totalmente nuovo. Guarda che ombre, che luce particolare che taglia le colline. Questa forcella. Ho già fatto delle foto in questo contesto. Non ne farò altre. Anche perché non c'è nulla di interessante dal punto di vista compositivo. È solo bella proprio la luce. Cambia la luce, cambia il paesaggio. Ottieni sempre qualcosa di nuovo. Mi sono fermato qui un attimo, mi sono girato e guarda cosa ho trovato. Guarda lì in mezzo, non so se lo noti dall'action cam. La natura mi ha creato una cornice con delle rocce in mezzo alla cima. E qui ci vado a fare una foto. È strepitosa. Qui il tempo sta cambiando. Ho fatto bene ad andare su fino alla forcella. Per carità lo sapevo, chiamavano un po' di brutto tempo. Ma sono stato graziato fino ad ora. Ma ad ogni modo il percorso è semplice. Quindi anche se dovesse succedere che mi trovo in mezzo al temporale. Non ci sono problemi per arrivare a casa se non salvo. Guarda l'antelao che luce, che luce. Spettacolare. Cerco ora il punto migliore. Ho già fatto una foto ma vediamo se riesco a scendere un pochino e avere una prospettiva più bella. L'antelao con questa luce strepitosa. Bello, bello. Si vede anche tutta la vallata. Luce anche sulla collina qui. Si è alzato anche molto vento. Il temporale sta arrivando, è anche più freddo. Altronde sono a 2074 metri di altitudine. Guarda che roba. Se non vale la pena fare i giri per vedere questi paesaggi. Vedi qua il temporale che sta arrivando. Ok, è tutto ma anche c'è tanta voglia di lavarmi. Anche il pelmo con questa luce è molto interessante da questa prospettiva. Altra luce che entra dalle nuvole va ad illuminarmi in spot la valle. Top! Solo questa va dall'uscita. La marmolada con una luce completamente differente. Guarda che bello. Luce, il sole, illumina il percorso. I bei riflessi. Visto che sono nuovamente qui, voglio vedere com'è il paesaggio di là con questa luce che è differente rispetto a prima. Magari vado anche a metterle a confronto per vedere cosa cambia proprio tra due orari differenti di luminosità. Andiamo! La marmolada con una luce. Qui si vede molto bene la marga nella quale ero prima, dove mi sono fermato. E si vede bene anche il percorso per la forcella, che però era impossibile da fare oggi con gli scarponi e ramponcini. Chissà se magari con l'avanzare della stagione, quindi con le prime ciaspolate, magari viene battuto un po' di più il sentiero. Ora in quel caso magari riuscirei anche a farlo, magari lo faremo con Flavio, se ha voglia. Quest'anno mi sono perso l'autunno per tutta una serie di impegni, di cose che avevo da fare. Però devo ammettere che la montagna comunque mi ha regalato un pochino di autunno. Me l'ho lasciato qui per me. Bello! Sempre guardarsi dietro ogni tanto perché si trovano degli scorci molto belli. Certo che veramente nemmeno una persona, nessun succursionista, nessuno l'ho trovato oggi. Veramente incredibile. Anche perché fino a qui non è che sia un percorso complesso. Quindi tanti magari potevano farsi il giletto così per passarsi un po' la giornata. E adesso il panorama che vedrai sarà praticamente lo stesso che avevi visto nel precedente video che abbiamo fatto qui. C'è solo quella piccola deviazione iniziale dove io ho raggiunto il luogo in un altro parcheggio rispetto a Rifugio Aquileia dell'altra volta. All'andata non te l'avevo fatto vedere ma c'è un albero che è completamente caduto sul percorso. Per questo anche non si può salire con la motoslitta e quindi probabilmente dovranno venire a sistemare questa cosa prima di poter riabilitare la salita con le motoslitte. D'ogni modo scavalchiamo. E siamo ritornati in questo punto con un po' il fulcro dove nel video precedente io e Flavio eravamo arrivati ma siamo anche scesi da questa parte. Di là è molto ripido e ci porta al Rifugio Aquileia mentre io me ne andrò giù da questa parte molto più comoda e facile. E da qui si può comunque proseguire. Ovviamente la luce continua ad essere molto interessante. Più il sole scende più diventa bella e più illumina in modo molto suggestivo il Monte Pelmo. Lo ammetto sono particolarmente stanco. Le strada ne ho fatte parecchia. Ti metterò qui i dati in sviluppo come chilometri, come dislivello. Io per carità considera sempre che io sono un amatore quindi ovviamente se sei un esperto per te questa è una sciocchezza. Però insomma io l'ho sentito un pochino e sono un po' stanco specialmente le gambe. E per questo video è tutto. Ripreso con la Osmo Pocket 3. Quindi fammi sapere qui sotto nei commenti se hai apprezzato la qualità di questi video. Voglio capire un po' se questo strumento può portare un miglioramento nella qualità delle riprese e uscirà ovviamente un mio parere su questa cam. Ho già riscontrato tante cose positive, qualcuna di negativa. Ovviamente ci sono anche gli aspetti negativi, ne parliamo. Ma nel frattempo vai qui sotto nei commenti e dimmi cosa ti pare come riprese video. Come qualità del video, dell'audio. E a me non resta che salutarti e ringraziarti di avermi seguito fino a qui. e ti lascio con un bel Monte Pelmo qui alle mie spalle che mi sovrasta. Io and Adolfo